buongiorno a tutti allora come vedete ho la filpetta dei miei amici perché anche stavolta non parlerò di di calcio ma come ho fatto con l'episodio di leo mattei vi parlerò di un episodio di csi new york esattamente la stagione numero 9 e l'episodio il numero 16 era l'episodio di san valentino sono praticamente tre casi in un episodio solo il primo si chiama amore in vendita il secondo si chiama l'amore cieco e il terzo è nel nome dell'amore quindi partiamo da amore in vendita e praticamente i detetti trovano una persona morta un ragazzo abbastanza giovane dentro un albergo lo trovano dentro un albergo non riescono a capacitarsi come mai un uomo è dentro un albergo in una camera d'albergo senza che sia lui ad aver prenotato la camera d'albergo ma l'ha prenotata un altro uomo e quindi scoprono che praticamente questa persona che ha prenotato la camera aveva conosciuto una ragazza al bar lui era lì tranquillo per passare una serata di san valentino purtroppo da solo gli si è avvicinata questa ragazza e non ha pensato che fosse quella una ragazza di facili costumi ecco per non usare un altro termine quindi cosa ha fatto hanno iniziato a chiacchierare lui all'inizio non ci credeva che una bella ragazza così fosse interessata a lui quindi è andato su ha prenotato la camera ci sono messi lì hanno parlato perché praticamente hanno parlato perché lui non ha pensato che fosse una di quelle è arrivato il protettore il protettore ha iniziato a picchiarlo e praticamente lui mentre le stava prendendo ha preso un cavatappi gliel'ha infilato nel collo e praticamente poi il questo è caduto e lui è scappato questa era la sua versione poi però scoprono che invece a ucciderlo è stata lei perché praticamente mentre lui era lì che lo stava picchiando l'ha intervenuta e gli ha dato una bottigliata in testa uccidendolo però lui giustamente non l'ha detto per proteggerla e e quindi quando hanno trovato anche lei gli hanno detto quello che era successo lei ha spiegato quello che è successo ha detto il mondo è cinico io faccio il mio lavoro mi sono avvicinata a lui perché l'ho visto triste e depresso però fossero tutti così le persone eccetera eccetera e loro gli dicono beh come vedi quando lei chiede giustamente con me non ha detto che sono stata io a dargli la bottigliata che c'ero anch'io in camera e loro gli rispondono forse perché il mondo non è così cinico e brutto come come lo descrive lei e questo era il primo episodio quindi praticamente è una legittima difesa alla fine veniamo al secondo episodio l'amore cieco e qui abbiamo un bel paciarottone proprio bello grasso col facciotto simpatico ecco immaginatevi un pelato come me molto più grasso e non dico più brutto più bello perché tanto preferisco sorvolare io sono solo simpatico quindi praticamente lo trovano morto con i cioccolatini lì e rimangono basiti perché questa persona è diabetica quindi non mangerebbe mai dei cioccolati un diabetico non mangerebbe mai dei cioccolatini scoprono questa scatola di cioccolatini chiamano la moglie che è sposata da cinque anni con questa persona iniziano però anche le discussioni tra il detective messer e lo sheldomux che è il responsabile di laboratorio di colore no che praticamente quando vedono la foto di lei bionda bellissima eccetera di fianco a lui che appunto è un bel paciarottone pelato e il detective messer viene fuori subito dicendo eh deve essere o pieno di soldi o se no non si spiega perché francamente una coppia mal assortita al che lo sheldon gli dice beh hai una visione un po troppo limitata del mondo perché tu non credi che una bella persona dentro possa far innamorare una bella persona fuori cioè pensi che i belli devono stare con i belli brutti con i brutti eccetera eccetera al che gli va beh poi ve lo dico dopo proseguiamo nella trama del praticamente scoprono che questa scatola di cioccolatini per cui questa persona li ha mangiati siccome l'etichetta era sparita parzialmente ma era rimasta il codice a barre per intenderci il simbolino quello del codice a barre scoprono che c'era scritto che erano senza zucchero quindi fanno due più due si rendono conto che lui stava progettando un viaggio con un'altra donna e quindi capiscono che è stata la moglie e scoprono appunto che la moglie cosa aveva fatto aveva mandato questi cioccolatini al marito poi aveva tolto l'etichetta quando è avvenuto il fatto solo che la volpe del deserto li aveva buttati nella spazzatura quindi hanno trovato tutto e in più hanno scoperto anche che il marito sentendosi male si è fatto la puntura di insulina il problema è che gli aveva sostituito pure l'insulina con acqua e zucchero quindi lei ha fatto morire e lei infatti ammette che aveva scoperto che lui la stava tradendo con questa persona e stava progettando un viaggio con un'altra persona nel suo quinto anniversario gli fanno vedere che questa persona era l'agente di viaggio che per di più anche una signora di una certa età e che appunto gli voleva fare una sorpresa per il quinto anniversario quindi lei praticamente ha ucciso il marito per per gravissimo errore bastava che glielo chiedeva anziché fare sta pantomina e adesso s'arrangia e praticamente Sheldon e Hoax cosa fa Hoax gli fa vedere la foto di quando era giovane che pesava 100 kg era un bel degretto paciarotto bello grosso in stile di quel film con Eddie Murphy in cui lui è il professore e diventa Buddy Love eccetera e quindi cosa fa visto che la ragazza che gli piaceva non non lo considerava si era sfondato di allenamenti in palestra eccetera diventato della gente che tutti vedono quando ha rincontrato la la sua suo grande amore che l'ha visto così eccetera lei gli ha ammesso che anche se quando era grasso a lei piaceva solo che temeva il giudizio degli altri se fossero messi assieme quindi anche qua c'è la morale che magari bisognerebbe sbatterse da un attimino le balle di quello che pensano gli altri se una ti piace o se un ragazzo ti piace l'ultima è nel nome dell'amore e qui praticamente c'è in ballo una causa di divorzio tra un ricco faccendiere diciamo e la sua esmoglie e praticamente trovano il faccendiere con due colpi di pistola sparati alle spalle mentre stava andando a incontrare la esmoglie con un mazzo di fiori problema è che in man sotto al suo corpo trovano anche una pistola con la matricola brasa la pistola con la matricola brasa pensano che l'assassino gliel'abbia buttata lì abbia sparato invece si rendono conto che la pistola non ha sparato scoprono che chi ha sparato era la sua es guardia del corpo e in più in casa della es guardia del corpo che è uccell di bosco non la trovano ci sono le foto della della esmoglie quindi praticamente lui ha fatto appedinato la esmoglie però sono tutte foto normalissime in cui si vede lei in giro a fare altre cose quindi cosa succede finalmente lo raggiungono lo arrestano e lui praticamente spiega che il suo datore di lavoro l'aveva ingaggiato per trovare qualcosa contro la moglie e lui dice io non ho trovato nulla anzi questa è una persona buonissima che si è data da fare si dava da fare a fare volontariato perdeva tempo con i senza tetto perdeva tempo per modo di dire tutto il rispetto io faccio volontariato all'ario soccorso quindi quindi lei praticamente il suo tempo lo dedicava agli altri quindi è una persona buona e lui praticamente cosa fa va bene non è il suo datore di chiamiamolo datore di lavoro gli prepara l'assegno glielo dà gli dice bene non mi sei servito a niente puoi andartene e lui dice guarda non voglio i tuoi soldi vorrei che la lasciassi stare perché è una persona buona chiudete il divorzio come volete ma lasciala stare questo si arrabbia gli tira un cazzottone gli dice sono io la mia moglie mia non mi devi stressare decido io del destino di mia moglie e gli avvocati e non tu vattene eccetera eccetera lui raccontando appunto la storia dice avevo capito che ha intenzione di uccidere la moglie e quindi l'ho seguito e gli ho sparato e infatti scoprono che effettivamente la pistola brasa l'aveva comprata questo faccendiere si era già preparato l'alibi visto che era entrato in un club lì vicino si era fatto fare il timbro perché così poi poteva rientrare e nel caso l'alibi non bastava aveva già pronto un biglietto per ginevra quindi se ne sarebbe andato in svizzera e poi hai voglia estradarlo quindi praticamente sono tre omicidi che invece non non sono cioè a parte quello di mezzo ma sono tutti errori il primo pensava che non fosse una prostituta e si è difeso dal suo datore di lavoro non possiamo chiamare così protettore eccetera e ha difeso anche la sua accompagnatrice diciamo l'amore cieco è un bel disguido che costerà alla moglie un bel ergastolo per errore perché era una cosa in sotterfugio fatta per amore e nel terzo c'è un bel gesto d'altruismo di una persona che ha ammazzato una persona per evitare che facesse un omicidio a una brava persona quindi ci tenevo a raccontarvelo perché mi è piaciuto particolarmente è uno spoiler quindi se qualcuno lo scriverò comunque nella disdascalia di presentazione in modo che così prima magari vi vedete l'episodio poi vedete la mia recensione ciao